La manovra economica del governo Meloni ha previsto una serie di tagli, tra questi rientrano anche svariati milioni destinati al comune di Pesaro e alle altre realtà amministrative d'Italia. Una manovra poco apprezzata da chi governa la città e che a detta del capogruppo PD Marco Perugini rischia di minare i servizi ai cittadini. Sono molto preoccupati tutti i sindaci che anche quest'oggi hanno ribadito alla loro contrarietà, a prescindere che fossero di orientamento di centro-destra o centro-sinistra, per questi tagli. Inutile è gli annunci del governo che non abbassa le tasse, ma se poi chiedi ai comuni un taglio importante vuol dire che noi dovremmo ringraziare il governo Meloni per aver aumentato le tasse anche a Pesaro. Le questioni sono molto semplici, nel momento in cui i comuni erogano i propri servizi grazie alle tasse e ai tributi dei cittadini e ai contributi dello Stato, nel momento in cui si tagliano i contributi dello Stato o si alzano le tasse dei cittadini o si eliminano i servizi. Il livello dei servizi in questo comune è sempre stato molto importante. Tre quarti del nostro bilancio è dedicato alla crescita delle persone, alle nostre politiche educative e soprattutto al sostegno delle persone. Un taglio di 3 milioni di euro solo nel prossimo anno è la prima volta che si riverifica dopo 10-15 anni di interruzione da parte dei governi di questi tagli. Rinizia questa stagione davvero austera di taglio degli investimenti e sembra anche addirittura una riattivazione del patto di stabilità. Questo ci preoccupa molto, ci preoccupa davvero tanto e ci preoccupa soprattutto l'atteggiamento di questa destra che sia a livello locale che a livello regionale che a livello nazionale in quello che loro dicono essere una filiera istituzionale non mette in condizione di avere buoni rapporti, ovviamente politici, sta a governi dello stesso colore, ma pur di sostenere un governo nazionale che non si prende la responsabilità di fare delle scelte, fa ricadere queste scelte sui comuni e quindi direttamente sui cittadini. Noi non abbiamo alzato le tasse ma poi ci pensano i comuni a farlo. Il Comune di Pesaro e noi ci impegneremo a livello consigliare nella discussione del prossimo bilancio affinché i servizi vengano mantenuti e soprattutto che i livelli di servizi vengano mantenuti perché ogni servizio erogato da questo comune è un servizio essenziale per il cittadino. Faremo delle scelte, faremo sicuramente delle scelte prioritarie ma ognuno si deve prendere la propria responsabilità. Arriveranno poi ulteriori tagli, dice il consigliere comunale, che per questo lancia un appello a tutti gli amministratori locali. Continuano anche i tagli sulle altre voci di bilancio correnti e ci metteranno in condizione probabilmente di fare delle scelte importanti. Questo vorremmo che non accada e vorremmo che tutti i comuni in questo modo e in maniera corale rappresentino al governo italiano e al Parlamento una protesta univoca, a prescindere dal colore politico, perché prima vengono gli interessi dei cittadini, prima i servizi ai cittadini che sono sempre più crescenti, poi vengono gli interessi di partito, la propaganda di partito.